Parliamo di Ben Godfrey all'Atalanta, primo colpo se vogliamo, anzi no, ufficiale dell'Atalanta, ufficiale non ancora, oggi sta facendo le visite e quindi a breve dovrebbe arrivare all'ufficialità, raccontiamo un po' il giocatore visto che comunque non è molto conosciuto in Italia, facciamo una premessa importante, cioè come Leverton arriva a vendere, cioè come lui arriva a Leverton, perché lui fa molto bene al Norwich, prima in Championship, poi fa un'ottima stagione in Premier League, il Norwich retrocede e Leverton lo prende per quasi 30 milioni, quindi è un giocatore che ha stato valutato 4 stagioni fa, se non erro, questa cifra qui, fa, si dice, si è detto praticamente solo di cose negative, soprattutto in Inghilterra, della sua avventura con Leverton, in realtà fa la prima stagione secondo me positiva con Ancelotti e quindi da questo punto di vista non è tutto da buttare, poi però c'è un calonetto, un calonetto del rendimento, è vero che va di pari passo con Leverton, però effettivamente lui non convince, questo è dovuto anche all'infortunio che ha avuto l'anno scorso, questo diciamo che non l'ha di certo aiutato perché è stato fuori oltre tre mesi, l'Atalanta punta su questo giocatore e lo fa per 10 milioni più bonus, stando a quello che rivolta Fabrizio Romano, stipendio, vediamo, adesso si parla sempre di cifre un po' particolari e strane, quando ancora non ci sono le cifre ufficiali, però comunque fate conto che lui all'Everton guadagna 2 milioni e mezzo, immagino si ridurrà lo stipendio, quindi meno di quella cifra lì, l'Atalanta prende un giocatore che comunque è da rilanciare, perché viene complessivamente comunque da tre stagioni fortemente deludenti, anche se l'ultima parte di questa stagione, diciamo, si salva, nel senso è stata, non dico positiva, ma non negativa, perché comunque lui ha fatto quest'anno 13, ha giocato anche poco, ha fatto 13 partite a titolare nell'Everton, 12 le ha fatte nella seconda parte di stagione, secondo me, ripeto, complessivamente si possono salvare, non sono state prestazioni tremende, anzi. Quindi, diciamo, è l'ennesima, è una scommessa che fa l'Atalanta, ed è un giocatore che, diciamo, potrebbe essere rilanciato benissimo da Gasperini, ne abbiamo visti mille rilanciati da lui, ma intanto, ripeto, per inquadrarlo un po' di più, al di là di queste cose qui, che, insomma, come dire, enciclopediche, che ho detto, parliamo un po' del giocatore, cioè che tipo di giocatore è, quindi descrivicelo un po' tu. Allora, Gotti ha fatto molto bene, come dicevi tu, con Daniel Park, che era l'allenatore del Norwich, allenatore anche promettente, insomma, capace di portare il Norwich in Premier, e sappiamo che poi, appunto, Park ha fatto altre scelte, è andato a Borussia Monchengladbach, e poi, insomma, ha cambiato nuovamente squadra, perché, appunto, diciamo, è andato a Leeds United. Gotti, se vogliamo, è un giocatore di cui ne capisco l'acquisto, perché è un giocatore, certo, giovane, quindi anche futuribile, un 98, da rilanciare a cifre basse, però è prevalentemente un sostituto, diciamo, lo possiamo dire, di Giorgio Scaldini. perché Gotti è un giocatore atleticamente molto importante, fisicamente forte, alto, però è un calciatore che ha giocato anche come centrocampista, quindi come mediano, è bravo a salire e palla al piede, è bravo a impostare, è utile, perché, appunto, lui gioca prevalentemente sulla destra, ha fatto anche il terzino, sappiamo bene che ha fatto bene, secondo me, nell'Everton di Ancelotti, che comunque era un Everton che doveva cambiare molti giocatori, un Everton che, comunque, poi sappiamo si è completamente trasformato, ha avuto poi meno spazio e ha fatto male anche a causa dell'infortunio con Lampard, e poi nella parte finale, diciamo, di questa stagione ha giocato un po' di più, perché nell'Everton si era fatto male Coleman e si era fatto male anche Mikolenko, quindi ha giocato come terzino a destra. È un giocatore che, secondo me, può far bene, perché, comunque, il campionato italiano ha dei ritmi differenti, sappiamo che Gasperini ha bisogno di questo, diciamo, centrale che si stacca, che si sgancia e sale, e poi, quando riconosceremo meglio le cifre, potremmo giudicare meglio il colpo, però, oggettivamente, all'Everton faceva fatica a trovare lo spazio, perlomeno come centrale, perché, diciamo, Tarkovsky è un giocatore, diciamo, importantissimo, lo è stato storicamente per Sean Dyke ai tempi del, appunto, del Burley, e poi, chiaramente, anche come nell'Everton, ma soprattutto, insomma, la stagione incredibile di Brent White, insomma, che poi lo porta a essere un giocatore che è in ottica a Manchester United, quindi, evidentemente, come centrale, però, il fatto interessante è che Goffi sa giocare come braccetto, quindi già parte avvantaggiato, e chissà che possa fare, io sono convinto che sia un colpo che possa far bene, e bisogna capire se fisicamente arriva bello, integro e tutto quanto, e sia smaltito poi l'infortunio che ha avuto in passato, ma sono fiducioso per questo primo colpo della Taranto. No, ti dico, dal punto di vista del paragone con Scalvini che hai fatto, che è interessante perché c'è il discorso del centrocampista, della pulizia tecnica, eccetera, o di quel tipo di dinamiche del difensore, del braccetto, secondo me è interessante, cioè, la differenza tra i due posto di Scalvini, secondo me, anche il prime di Godfrey non ha mai raggiunto il livello di Scalvini, poi è chiaro che siamo abituati a vedere giocatori che sotto Gasperini cambiano completamente, quindi possibilmente lo vediamo esplodere, diventare nesta, però il discorso è che la grande differenza tra i due a livello di caratteristica, al di là del livello, è che Godfrey comunque è un giocatore abbastanza veloce, cioè Scalvini comunque, se vogliamo, come... No, no, è molto rapido Godfrey, sì. È uno un po' compassato, forse il grande difetto di Scalvini, no? L'unico forse grande difetto di Scalvini è che è un giocatore un po' compassato. Scalvini è lento, lo possiamo dire, è un giocatore lento, è un giocatore fisicamente strutturato in un certo modo, mentre Godfrey è esplosivo comunque. Godfrey è esplosivo, Godfrey è esplosivo, c'è questo fatto che si stacca, sale, secondo me può essere utile anche perché l'Atalanta ha una linea difensiva di comunque invecchia, anno dopo anno, certo la ringiovanita con Ian, Toroi è praticamente, diciamo, un uomo spogliatoio più che un uomo del campo, con la Sinac comunque è un trentenne, quindi non è nemmeno giovanissimo, Scalvini si è fatto male, l'Atalanta ha bisogno di giovani, anche Bim City, penso abbia 28-29 anni, forse anche di più. Sì, sì. E quindi... Credo sia anche loro per tanto. Secondo me è un giocatore che può essere molto utile, chissà che poi magari il Gasperini non lo riscopra vinto, ma diciamo, non credo, però è sicuramente molto utile. No, cioè dire una cosa, più che altro, perché c'è da fare un discorso su quello che è l'Atalanta, di cui l'Atalanta ha bisogno come centrali, perché secondo me almeno un altro va preso, almeno un altro, dico, eh. Sono d'accordo. Forse anche due. Perché, come hai detto tu, Gim City e Colasinac sono due punti fermi, così come Ien, e sono però i primi due, due giocatori comunque, che qualche scricchio lì l'hanno avuto a livello fisico, quindi non hanno nemmeno quella sicurezza di giocarti tutte le partite al 100%. Anche Ien ha avuto, se non erano problemi fisici, con il Verona a inizio anno. Vabbè, però al di là di questo, comunque, sono tre pilastri, tre giocatori titolari, e va bene così. Scalvini chiaramente l'hai perso per il discorso del crociato, e non puoi farci affidamento quest'anno, ora, non so se per tutta la stagione, perché poi il crociato è un infortunio particolare, abbiamo visto ad esempio Dodo della Fiorentina, recuperare nella stessa stagione molto bene, ma c'è stato anche casi come Chiesa, ad esempio, che ci ha messo più di un anno a recuperare. Eh beh, certo, sì. C'è gente che non ha ancora recuperato, o non recupererà da questo tipo di infortunio. Io mi auguro il meglio per Scalvini. Eh, speriamo, anche perché per l'Italia stessa, visto che si parla molto di nazionale, in questo periodo per ovvie ragioni, insomma, è un profilo non da poco. Palomino è uno che andrà a scadenza, poi vabbè, era stato pure messo fuori rosa, a un certo punto. Eh beh, Palomino era in cessione già a gennaio, doveva andare alla Salernità, non ha rifiutato la cifra offerta, quindi non è andato più. Sì, era proprio fuori rosa, credo, a un certo punto. Come detto tutto, a Loi, chiaramente, anche lui, oltre a non assicurarti delle prestazioni di un tempo, non ti assicura nemmeno il fatto di esserci, perché anche lui ha avuto dei problemi fisici, c'è una certa età, credo vado ad avere i 34, quindi, e si parla anche di possibile cessione, in realtà. Eh, sì, sì, sì. Perché ho letto l'interessamento del Genoa, quindi potrebbe pure andare via. L'altro, che è stato nelle, diciamo, nel giro dei centrali, è Bonfanti, che ha fatto, se non era una stagione, quando si parlava di Gopemain, si pensava anche a Wiesenhausen, insomma, come contropartita, perché la Tanta rimostrava l'interesse, proprio quel tipo di difensore lì, no? Quindi, sicuramente la Tanta deve intervenire, secondo me, sulla fascia destra e tra i centrali di difesa. Sì, sulla fascia destra, l'altra volta, l'analizzavamo, quando si parlava di Holm, ho analizzato un po' superficialmente, mi hanno fatto notare, giustamente, che hanno fatto delle riflessioni sull'abbondanza che c'è a destra dell'Atalanta, quindi, in realtà, Holm, ci sta che, se vuoi puntare su un titolare fisso a destra, magari dici, non lo riscaldano. Abbiamo Bacher e Ugei a sinistra, no, Bacher, sì. E poi a destra c'è Zappacosta, c'è Zortè che rientra, Zortè che rientra, C'è il ragazzo, quello dell'altro, dell'Andre 23, credo, i semi palestra, non volete di non scoprire l'altro. Ah, palestra, sì, sì. E poi c'era un altro che mi sto, che sto dimenticando, quindi c'erano quattro profili, se aggiungi pure lui, eh, eh, no, 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 sì, sì. È meglio smaltire, è meglio smaltire e poi prendere un titolare fisso a destra, sono d'accordo, però centrali bisogna, bisogna fare qualcosa, anche perché l'altro eh, che ha giocato spesso al centro, scusate, l'altro che ha giocato spesso al centro, cioè, ha giocato spesso nei tre di difesa è Deron, che però è un centrocampista, e lì si ritorna forse ad altre emergenze, perché a centrocampo anche non è che è lunghissima l'Atalanta, perché a Deron, che però spesso ha giocato dietro, ha Copminers Ederson, che è vero che da solo praticamente può, si può anche giocare con un centrocampista in meno, perché basta lui, e poi c'è c'è Pasalic, che però è un po' un trequartista adattato, così come Copminers in realtà lo è, e c'è Adopo, quindi, insomma, c'è anche un po' di, c'è grande c'è grande qualità e poca quantità a centrocampo. È vero, se viene scuso Copminers secondo me vanno con non uno, ma due profili per sostituire, secondo me. E quindi c'è bisogno un po' di operare proprio da quel punto di vista, poi è chiaro che a centrocampo se riesci a mantenere i titolari puoi anche mettere dei giocatori in quantità, mettere delle riserve, delle buone riserve, ma anche in difesa, se vogliamo, però sì, a destra va preso un titolare e poi va... Ma l'Atalanta ha bisogno di una cosa non lunghissima, ma diciamo... Un po' più ampia. Affidabile. Affidabile, ampia e affidabile, sì. Sì, per evitare di dover improvvisare, poi in questo, l'abbiamo detto durante tutta la stagione, è un ulteriore merito di Gasperini il fatto che nonostante le emergenze, gli infortuni, i problemi che ha avuto, è riuscito sempre in qualche modo a portarla a casa, e diciamo, ha portato a casa la stagione più importante della storia dell'Atalanta vincendo l'Europa League arrivando in finale di Coppa Italia e arrivando quarto in campionato, per cui, qualificandosi per la Champions, per cui stiamo parlando di una stagione incredibile nonostante questi problemini. È chiaro che Gasperini, si è capito, è uno che, non dico ora, non dico che l'Atalanta deve puntare a vincere lo scudetto, però è chiaro che Gasperini vuole, quantomeno da quel che si intuisce, vuole provare a lottare per, cioè, vuole fare quello step in più per fare quello step serve un po' più di abbondanza appunto senza stavolta sistemare le piccole le piccole problematiche e poi, insomma, valorizzare ancora di più la rosa. Per quanto riguarda Godfrey e cui vi udiamo, è chiaro che è un giocatore, vale per qualunque giocatore che arriva all'Atalanta, in particolare per profili di questo tipo qui, è chiaro che se al di là delle caratteristiche, delle potenzialità del ragazzo, se è uno che arriva con la mentalità giusta, dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista del come deve allenarsi e anche di come deve diciamo operare sotto Gasperini, allora è uno che probabilmente renderà come mai ha reso in vita sua, come abbiamo visto anche per Luckman, ad esempio, cioè Luckman, anche lui veniva da tre stagioni deludenti, così in Premier League, poca roba, poi con Gasperini è diventato quello che ti fa tripletta in finale di Europa League, se invece è uno che con la testa non c'è da questo, insomma, sotto questo aspetto sinceramente non saprei esprimermi, è uno che poi difficilmente questo tipo di giocatore riesca a impattare, quindi al di là delle caratteristiche, poi la cosa principale è che devono essere disposti a un certo tipo di dinamiche che Gasperini di lavoro e di mentalità che Gasperini impone, quindi vediamo, dal punto di vista poi delle caratteristiche dell'operazione in sé per il costo, eccetera, devo dire che in generale è un buon colpo, poi per il resto se renderà o meno dipenderà da lui.